Ciao, sono Amore, oggi daremo un'occhiata alla mia pagina di TikTok. Per comodità guarderò i video che hanno superato il milione di visualizzazioni, spieghiamo qualche titolo, leggiamo qualche commento e vediamo. Possiamo partire. Sesto video che ho sul profilo, 912.000 visualizzazioni. Ah boh, più amedeo. Quella volta in cui si perdono un titolo così, tanto perdono. 71.000 like, 139 commenti, vediamo se c'è qualche commento. 1.944 e che è a madonna. Pure risposto, we searched, livello inglese Renzi. Mia madre mi nasconderà il telefono tra poco. Tipico commento da TikTok, 24 like, non so se l'hai ritrovato il telefono. 1.200.000 visualizzazioni, il primo video sul mio profilo che ha superato il milione di visualizzazioni ed è l'iscrizione di Salmo ad X4, qua avevo già iniziato con i titoli, a censurare. La ragione sei tu che mi fa andare fuori, se col soccati fuori. 86.000 like, 176 commenti. Non pensavo alle parole ma guardavo i pantaloni, 5.000 like, ma in che senso? Sì. Io che pensavo lo uscisse, ma male che non l'ha fatto. Qua non avevo neanche risposto a nessun commento. Vabbè, primo milione non si scorda mai, ma non ricordavo neanche. Uh, 2 milioni in una clip presa da Twitch. Quello che urla incontra Gavino in live. Ah, questa la spiego. 377.000 like, 4.000 commenti. Gavino mi fa troppa tenerezza. Sto crepando a cui rispondo gold. Ah, gold, ok. Mi avete cagato. Stavo bene. 14.500 like. In sostanza il tipo a sinistra ha fatto tipo un anno a sfottere il tipo a destra. E qua è il primo momento in cui si sono incontrati. I TikTok del tipo facevano milioni di video. 26 maggio 2021. Un milione e due. San Giovanni fu l'ho un vissuto e lei lo sfotte. 95.000 like, 725 commenti. Un po' che tu citi la terapia nella canzone. Perché comunque... Beh, tu sei andato a ascoltarti... E vabbè, non è che hai uno storico musicale cosa saranno nove pezzi. È un altro che si è montato. Tra anche questo, 8 luglio 2021. Ma lei mi sta facendo un uomo vissuto, piuttosto lei è stata scorbutica. Era semplicemente sorpreso che avesse ascoltato la sua prima canzone, ma poi uomo vissuto da dove ti è uscito. Io direi che posso anche guardare l'ultimo e poi... Ragazza famosa viene presa a farlo. Un milione e un cento mila di soluzioni. Nonché una tiktoker che si mette in porta e mi prende parola. Madonna santa. E io che rispondo così. Boh. Cattiveria da social, dai. Ah, e poi l'ho ritentata, calciatrice dell'Inter a tirare i rigori. Anche questo, un milione di visualizzazioni. Mi ha ero! Brava, così! Mi sto vergognando per tutti gli interisti in questo momento. Ragazzi, 7 seri è Giulia Salemi non fa calcio. Ragazzi, non è una giocatrice dell'Inter, non ha mai giocato a calcio sta prima. L'ultimo. Questo non ha raggiunto un milione di visualizzazioni. 838 mila, ma devo vederlo. Lo sai che a me avevano dato la possibilità di confiarlo di botte a sto tipo? 99 mila like, 522 commenti. Ciccio Gamer 89, capo boro di Roma. Il capo dei paguri. La gente tremava. Nel senso che loro lo tenevano fermo e lo pullappava. Alla caserma, due punti. Ciccio Gamer, vorrei fare una denuncia, poliziotto, per cosa? Mi hanno lanciato un cornetto alla Nutella in faccia. Una denuncia per un cornetto. Raga, ci ha sgravato. E il cornetto in sé. Va bene, per oggi può andare bene così. Ringrazio questo computer. Alla prossima. Ciao.